Uno dei comparti da toccare, da riformare profondamente, lo sappiamo, è quello della giustizia perché nel recovery plan c'è questa richiesta di migliorare l'amministrazione della giustizia civile nel nostro paese perché le aziende che investono da noi hanno troppe incertezze rispetto al sistema giudiziario italiano. Allora, che cosa bisogna fare? Ieri c'è stato l'intervento della guarda sigilli Cartabia, ha lanciato un ammonimento a tutti perché si faccia questa prima di arrivare al collasso. Ne parliamo con Antonio De Angelis, presidente dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati. Buongiorno, Avvocato. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, dove si deve intervenire secondo voi? Ma il rischio che lei ha evidenziato è un rischio molto forte, cioè un rischio concreto di collasso della giustizia, soprattutto della giustizia civile. Dopo la fine dei regimi straordinari, il blocco degli sfratti, il blocco dei licenziamenti, è previsto davvero un aumento del contenzioso, soprattutto civile. Occorrono investimenti, investimenti che vanno dall'assunzione di nuovi magistrati. L'Italia è il paese in Europa con il minor numero di magistrati. Occorre una incentivazione del processo di telematizzazione dei processi civili, penali, amministrativi, tributari, del processo in Cassazione, del processo dinanzi al giudice di pace. Occorre pensare ad una seria riforma della giustizia civile e della giustizia penale. La ministra Cartabia ieri ha annunciato l'avvio di un tavolo sia sulla riforma della giustizia civile che sulla riforma della giustizia penale. Il recovery prevede oltre 2 miliardi di investimenti sul settore giustizia. Non sono moltissimi, meno dell'1% del pacchetto complessivo, ma sicuramente si può fare, si può iniziare a fare un buon lavoro. Ecco, Avvocato, solo per capire, quando lei dice telematizzazione dei processi, cosa si intende nella pratica? Si intende anzitutto la prosecuzione della telematizzazione del processo civile, quindi il deposito, per esempio, degli atti telematici attraverso un computer, attraverso una pecca, attraverso un upload e non il processo cartaceo. Oggi in Italia ci sono ancora dei processi che impongono il deposito cartaceo degli atti. Il processo dinanzi al giudice di pace, per esempio, il processo penale... Non si va più in cancelleria a depositare documenti, no? Esatto, esatto. Questo già sarebbe un passo in avanti importante. E non sentiremo più dire che all'amministrazione della giustizia servono le macchine fotocopiatrici. È sperabile questo? Se ne vedono sempre meno nei tribunali. Speriamo che questo si velociati un po'. Grazie Avvocato per essere stato con noi.